Top 10 Matteo Tarantino con Notte di Luce 7 Marianna Lanteri con L'Appuntamento 6 Daniele Tarantino con La Cumbia del Ventre Ma ora passiamo al Ballo di Gruppo del Mese di Maggio Ballo di Gruppo del Mese di Liscio.1 J Balvin con Ginza Ma andiamo a vedere chi è l'artista della settimana L'artista più attivo su www.liscio.1 è Manuel Martini, Orchestra Marchetti Ora scopriamo chi si trova nelle prime 5 posizioni 5 Omar Codazzi con Una Catena 4 Castellina Pasi con Mentiras Al terzo posto c'è Lara Agostini con Lento Al secondo posto c'è Con la versione di Renzo Biondi Ho Camminato Primo posto per Se ogni tanto Ti sembrerà Se ogni tanto Dell'orchestra italiana Bagutti Ci diamo appuntamento alla prossima puntata Per scoprire quale sarà Il primo classificato dei video da voi caricati su www.liscio.1 Alla prossima puntata Vi aspettiamo Ciao Il primo classificato di Renzo Biondi 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 Il primo classificato di Renzo Biondi